Seconda Epistola ai Corinzi, Capitolo undicesimo Ma temo che come il serpente seduzse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo. Infatti se uno viene a predicarvi un altro Gesù diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi ben lo sopportate. Ora, io stimo di non essere stato in nulla da meno di cotesti sommi apostoli, che seppur sono rozzo nel parlare, tale non sono nella conoscenza, e l'abbiamo dimostrato fra voi per ogni rispetto e in ogni cosa. Ho io commesso peccato quando, abbassando me stesso perché voi foste innalzati, v'ho annunziato l'Evangelo di Dio gratuitamente? Ho spogliato altre chiese prendendo da loro uno stipendio per poter servir voi, e quando durante il mio soggiorno fra voi mi trovai nel bisogno, non fui da gravio a nessuno, perché i fratelli venuti dalla Macedonia supplirono al mio bisogno, e in ogni cosa mi sono astenuto e masterrò ancora dall'esservi da gravio. Come è vero che la verità di Cristo è in me, questo vanto non mi è stato tolto dalle contrade della caia. Perché? Forse perché non vamo, o lo sai Dio, ma quel che fo lo farò ancora per togliere ogni occasione a coloro che desiderano un'occasione, affinché in quello di cui si vantano siano trovati uguali a noi. Poiché cotesti tali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque, granché se anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia. La fine loro sarà secondo le loro opere. Lo dico di nuovo. Nessuno mi prenda per pazzo, se no, anche come pazzo accettatemi, onde anch'io possa gloriarmi un poco. Quello che dico quando mi vanto con tanta fiducia, non lo dico secondo il Signore, ma come in pazzia. Da che molti si gloriano secondo la carne, anch'io mi glorierò. Difatti voi che siete assennati, li sopportate volentieri, pazzi. Che se uno vi riduce in schiavitù, se uno vi divora, se uno vi prende il vostro, se uno si innalza sopra voi, se uno vi percuote in faccia, voi lo sopportate. Lo dico a nostra vergogna come se noi fossimo stati deboli. Eppure in qualunque cosa uno possa essere baldanzoso, parlo da pazzo, sono baldanzoso anch'io. Son dessi ebrei, lo sono anch'io. Son dessi israeliti, lo sono anch'io. Son essi i progeni d'Abramo, lo sono anch'io. Son dessi i ministri di Cristo, parlo come uno fuori di sé. Io lo sono più di loro, più di loro per le fatiche, più di loro per le carcerazioni, assai più di loro per le battiture sofferte. Sono spesso stato in pericolo di morte. Dai giudei cinque volte ho ricevuto quaranta colpi meno uno. Tre volte sono stato battuto con le verghe. Una volta sono stato lapidato. Tre volte ho fatto un naufragio. Ho passato un giorno e una notte sull'abisso. Spesse volte in viaggio, in pericoli sui fiumi, in pericoli da ladroni, in pericoli per parte dei miei connazionali, in pericoli per parte dei gentili, in pericoli in città, in pericoli nei deserti, in pericoli sul mare, in pericoli tra i falsi fratelli, in fatiche e in pene, spesse volte in veglie, nella fame, nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. E, per non parlare d'altro, c'è quel che massale tutti i giorni, l'ansietà per tutte le chiese. Chi è debole che io non sia debole? Chi è scandalizzato che io non arda? Se bisogna gloriarsi, io mi glorierò delle cose che concernono la mia debolezza. L'Idiopadre del nostro Signor Gesù, che è benedetto in Eterno, sa che io non mento. A Damasco il governatore del re Areta aveva posto delle guardie alla città dei damasceni per pigliarmi, e da una finestra fu calato in una cesta, lungo il muro, e scampai dalle sue mani.